Chiedo a Nolevole Raggi di intervenire. Prego, Nolevole Raggi. Grazie, Presidente. Ebbene, abbiamo analizzato questo bilancio previsionale 2014, previsionale che, come ha appena detto il mio collega Enrico Stefano, arriva a luglio, quindi auguriamoci di votarlo almeno entro la fine di questo mese, così possiamo tentare di fare una previsione per i 5 mesi residui, una previsione cerchiamo di farla, altrimenti consuntiviamo anche quest'anno. Peraltro i municipi continuano a erogare somme in dodicesimi, e quindi sappiamo bene questo che cosa vuol dire. Uno sguardo al bilancio previsionale è bastato per farci capire che non ci piace. Non ci piace perché è previsto l'aumento generalizzato delle tariffe, sul quale per certi versi si può anche essere d'accordo, perché in alcuni casi occorre senza dubbio riadeguarle alle mutate condizioni economiche, alcune tariffe erano particolarmente risalenti, pensiamo alle OSP, e tuttavia come cittadino, ancora prima che come amministratore, io mi chiedo, io pago le tasse, io pago tutte le tariffe che questa amministrazione stabilisce di imporre, ma che cosa ho come servizio? Quali sono i servizi che questa amministrazione mi dà, eroga ai cittadini? Quali sono? Io mi permetto di riprendere un discorso che già ho fatto in quest'Aula, e che secondo me è calzante, perché poi, come dicevano gli antichi, ripetita Juvent, speriamo che piano piano a furia di ripetere qualcosa passi. Io vorrei ricordare quali sono i compiti dell'ente locale. L'articolo 3 del tuo è il recita, il comune all'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Utilizza una parola molto bella, che è quella di comunità. Non è cittadini, comunità è qualcosa di diverso, è un insieme di cittadini che insieme vivono, che insieme realizzano qualcosa, che sono un tutt'uno. Io la comunità a Roma non la vedo, e non la vedono neanche i cittadini che sono abbandonati a loro stessi. Roma è una città senza dubbio molto grande, che però sconta il fatto di abbandonare i propri cittadini. Noi siamo tutti singoli individui, non c'è comunità. E soprattutto la comunità o quelle comunità che via via si formano, grazie all'attività dei singoli cittadini che insieme si aggregano per provare a riprendersi dei pezzetti di dignità e di società, ebbene queste comunità si creano per effetto dell'attività spontanea dei cittadini. Non è certo l'ente locale che in qualche modo le tutela, le valorizza, le promuove. Quindi purtroppo già l'articolo 3 del Tuel ci dà la misura di quanto rimanga inattuato quando parla di comunità. Poi arriva lo statuto di Roma Capitale. Lo statuto, l'articolo 2, rubricato principi programmatici, elenca tutte quelle che sono le competenze dell'ente locale comune di Roma Capitale, ossia tutte le aree di intervento nelle quali il comune dovrebbe attivarsi. Il primo comma è emblematico, riprendo, mi riaggancio al discorso del mio collega, il primo comma recita Roma Capitale promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute e della sicurezza della mobilità generale. Il trasporto collettivo viene privilegiato? Ma se tagliamo linee di autobus? Il trasporto collettivo viene privilegiato? Ma se, come diceva il mio collega, molti autobus non possono uscire dall'autorimessa perché mancano i pezzi di ricambio? Ma se i dipendenti dell'azienda che si occupa di fornire e di erogare il servizio di trasporto pubblico vengono vessati e vengono ricattati? Dov'è il privilegio del trasporto collettivo a garanzia della salute e della sicurezza della mobilità generale? Corsie preferenziali poche, come diceva lui. E la salute? Noi a Roma andiamo avanti, devo dire ultimamente ancora poco, ma sicuramente a breve si riattiveranno, noi a Roma siamo andati avanti per anni e l'amministrazione Marino ha avuto qualche esploi in questo senso, con le domeniche a piedi, le targhe alterne per tutelare la salute. Quindi direi che questo comma che implica un impegno preciso dell'amministrazione è stato ampiamente disatteso. La tutela della salute è un'attività che non si fa con le targhe alterne, con le domeniche a piedi. La tutela della salute si fa riducendo le polveri ogni giorno dell'anno, privilegiando il trasporto pubblico, incrementando il trasporto pubblico, costituendo una rete per esempio di piste ciclabili, ciclabili leggere, consentendo a tutti i cittadini che debbono effettuare degli spostamenti brevi, non si può pretendere che tutti vadano in bici per 20-30 km, non è questo, però consentendo a tutti quei cittadini che effettuano spostamenti brevi di poterlo fare in totale sicurezza. Ci sono moltissime associazioni che hanno il conto preciso dei deceduti, delle vittime della strada, ciclisti che sfidano la sorte ogni giorno perché credono in una mobilità alternativa. Ancora, l'azione amministrativa deve essere improntata al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, rapidità e semplicità nelle procedure. Io in un anno di consigliatura non ho visto nulla, nulla. La trasparenza, la trasparenza è un concetto, è un concetto che viene declinato con pubblicità e partecipazione dei cittadini. Bilancio partecipato dov'è? L'avete promesso in campagna elettorale, dov'è il bilancio partecipato? Adesso lo sta proponendo una forza di opposizione. Voi dove eravate? Dormivate? Avete dormito? Bella questi 365 giorni di sonno? Beh, ottimo. La partecipazione dei cittadini, la pubblicità degli atti, siamo riusciti dopo quasi un anno a ottenere lo streaming delle sedute, figuriamoci se riusciremo a ottenere lo streaming delle sedute delle commissioni. La pubblicazione dei verbali delle commissioni su internet procede molto a rilento, però piano piano ce la faremo. Del resto scansionare un verbale mi rendo conto che è attività molto complessa, non so se come le barzellette dei carabinieri richiedono sette soggetti per effettuare un'azione, non so se anche qui si può mutatis mutandis trasporre questo concetto, mi auguro di no. Ancora, Roma Capitale promuove il diritto al lavoro, ma se a Roma chiudono tantissimi esercizi commerciali, le piccole botteghe, i negozietti, stanno chiudendo tutti. stanno chiudendo tutti. Ci sono intere vie con le saracinesche abbassate. Dov'è la tutela del lavoro? La tutela delle politiche per l'occupazione? Non c'è niente, non vi state muovendo in questo senso. Non so chi sia l'assessore, ora che abbia questa delega specifica, se l'assessore Cutino è l'assessore Cattoi. io non ho visto niente da nessuno dei due dipartimenti, quindi forse si può riattribuire sperando che qualcuno ci si dedichi con un po' più di passione. Roma Capitale riconosce il ruolo sociale degli anziani. Mi viene da ridere, mi viene da ridere, veramente, mi viene da ridere. Il ruolo sociale degli anziani. Ricordo che è stato emanato dall'amministrazione, anzi è stato pubblicato, usiamo le parole corrette, è stato pubblicato dall'amministrazione in data 11 giugno sul sito del Comune di Roma la notizia che Roma Capitale aveva avviato il piano caldo. Notizia pubblicata all'11 giugno. Che cosa dice il piano caldo? Il piano caldo dice che Roma svolgerà ed effettuerà due progetti, Roma Amica degli Anziani insieme per tutta l'estate e Roma piano caldo senza fissa dimora accanto ai più fragili. Roma Amica degli Anziani doveva partire il 15 giugno. Vero è che la notizia pubblicata l'11 giugno ci fa presumere che forse per la data del 15, cioè quattro giorni dopo, era un po' difficile, sarebbe stato un po' difficile partire. Noi abbiamo depositato un'interrogazione alla quale ovviamente non abbiamo ancora avuto risposta. Tanto per capire innanzitutto se fossero stati rispettati i tempi. Roma senza fissa dimora. Che cosa si prevedeva? Cosa prevedevano? Prevedevano questi due progetti l'accompagnamento e il trasporto denominato Nonna Roma, il progetto Oasi, l'animazione pomeridiana in quattro centri anziani, il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare, consegna passi a domicilio e dimissioni protette. Ora, l'accompagnamento e il trasporto ci risulta, da quello che ci è stato riferito dagli operatori, che molti, questo è il progetto Oasi, ci risulta che molti degli autobus, delle navette per il trasporto non sono attrezzati per il trasporto degli anziani disabili carrozzati. Quindi, Roma mica degli anziani tranne quelli carrozzati, perché di quelli purtroppo non sappiamo come fare. Roma mica degli anziani e però animiamo, l'animazione la eseguiamo, la effettuiamo solamente in quattro centri anziani, che mi sembra un'ottima media, considerando che abbiamo quindici municipi, auguriamoci almeno che questi quattro centri anziani siano dislocati nei quattro punti cardinali della città, perché poi è noto che gli anziani prendono la macchina, vanno, si spostano come dei fulmini. Il piano a sostegno delle persone senza fissa dimora due strutture H24 per accogliere venti persone, due strutture aperte nove ore che possono accogliere dieci persone, cinque strutture aperte quattro ore che possono accogliere venti persone a turno. Io non so sinceramente quali sono i numeri che voi avete, però in commissione in commissione trasparenza i numeri dei senza fissa dimora erano ben altri, si parla di circa duemila, duemila trecento unità, francamente anche sommando venti più dieci più venti difficilmente arriviamo a coprire non dico tutti ma una buona fetta dei senza fissa dimora. Quindi Roma amica degli anziani, oserei dire Roma amica dei disabili, qui non c'è scritto i disabili sono presi in considerazione dopo, potrei dire dove lo state attuando questo, perché non vi leggete lo statuto come fosse la vostra bibbia, perché non lo leggete e non lo attuate, perché c'è scritto tutto, non bisogna inventarsi la ruota ogni volta, inventarsi l'acqua calda ogni volta, c'è scritto tutto, basta dare esecuzione. Poi Roma Capitale favorisce la parte ah, scusate, ecco, una cosa interessante su questo bando, su questi progetti anziani è che mi è stato segnalato giusto qualche giorno fa che è appena stato pubblicato il bando per l'individuazione delle associazioni che si occuperanno di dare attuazione a questo piano caldo, vorrei ricordare all'amministrazione che oggi è il 16 luglio se non sbaglio, non dico che l'estate volge al termine ma con i tempi previsti mi pare che l'assegnazione e l'affidamento insomma sia previsto per fine luglio, direi che più che piano caldo per me possiamo fare un piano autunno un piano temperature miti forse lo prendiamo in tempo la partecipazione dei giovani anche questo mi fa un po' ridere visto che dal piano dal bilancio previsionale si vede come benché il comparto scuola non sia tagliato non vi siano taglie sul comparto scuola nel triennio sì e quello che viene tagliato nel triennio sono i progetti relativi ai giovani e quindi ancora un applauso devo dire che forse vi conviene riscrivere lo statuto così almeno noi stiamo zitti no? non ci arrabbiamo vengono tagliati i servizi ai giovani e agli adolescenti vengono tagliati i progetti sulle scuole i viaggi dai viaggi della memoria perché non ci sono fondi sempre per la cronica mancanza di fondi si taglia sui servizi sicuramente una mossa molto scaltra molto facile Roma tutela i bambini e le bambine uniformandosi alla convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuove il diritto alla salute alla socializzazione partecipazione gioco studio formazione nella famiglia nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità qui ci possiamo sbizzarrire il diciamo la previsione triennale sul comparto scuola prevede una riduzione di molte dei servizi per i minori per esempio gli asili nido vengono ridotti per esempio poi vengono aumentate le tariffe per la mensa le tariffe per il trasporto scolastico che in un periodo di crisi in cui tutti dobbiamo tirare la cinghia io posso anche dire ci può stare un aumento noi peraltro ci siamo battuti perché questo aumento fosse parametrato al reddito ISE e non generalizzato come inizialmente l'assessore Cattoia aveva proposto perché se tanto bisogna aumentare teniamo quanto meno come faro l'articolo 53 della costituzione che ci dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese secondo la propria capacità reddituale e quindi almeno ancoriamoci alla capacità reddituale e però questo vale se tutti fanno i sacrifici se i sacrifici si chiedono solo ai cittadini e non si riesce a tagliare invece sulle spese cosiddette per esempio incomprimibili che l'assessore scozzese assessore scozzese lei fece una dichiarazione che ci è piaciuta molto quella che si augurava di poter comprimere le spese comprimibili ce l'auguriamo anche noi perché dicevo se tutti devono tirare la cinghia la cinghia deve essere tirata per tutti non può sempre non si può sempre chiedere un sacrificio ai cittadini e quindi anche qui le tariffe per la scuola va bene l'aumento se è necessario se il sacrificio lo facciamo tutti se la carretta come diceva il mio collega la tiriamo tutti se la tirano sempre i soliti non va bene sempre i soliti e casualmente le fasce più deboli la tutela del diritto alla salute nella scuola è importante questa perché perché le scuole di Roma Capitale sono in condizioni fatiscenti ci sono scuole che hanno dei locali completamente interdetti ai bambini perché c'è muffa ci sono infiltrazioni ci sono muri pericolanti nel migliore dei casi diciamo questi ambienti sono stati chiusi puntellati e chissà quando riapriranno nel peggiore dei casi si è assistito a delle vere e proprie tragedie ma vi sembra normale che una famiglia accetti di mandare il proprio figlio a scuola perché questo è un patto di fiducia che si fa con lo Stato io ti affido mio figlio la cosa più preziosa che ho io ti affido mio figlio per farlo studiare per farlo educare te lo do per 4 ore 5 ore 8 ore e tu me lo ridai e che cosa diciamo alle famiglie che invece non vedono tornare a casa i figli che cosa gli diciamo che è crollato il tetto della scuola il soffitto perché non ci sono fondi per l'edilizia scolastica ah beh allora è così che si tutela la salute la salute dei bambini nelle scuole dei ragazzi nelle scuole è per questo che francamente trasecoliamo quando finalmente vediamo uno spiraglio di luce all'orizzonte che è rappresentato dall'otto per mille dalla possibilità che una quota derivante dall'otto per mille venga attribuita all'edilizia scolastica particolari interventi sull'edilizia scolastica e trasecoliamo quando proviamo a sollecitare questa amministrazione per fare tutto affinché entro la scadenza normativa del 30 settembre 2014 si riesca ad arrivare pronti con le istanze depositate presso il competente ufficio della presidenza del consiglio dei ministri per dire governo queste sono tutte le scuole che noi non possiamo riparare manutenere ristrutturare adeguare non possiamo togliere l'amianto perché perché i fondi per effettuare queste attività sono sottoposti al patto di stabilità interno però se tu governo ci dai una quota dell'otto per mille noi possiamo mettere in sicurezza queste scuole lo possiamo fare ebbene l'aula ha bocciato questa proposta ora io mi chiedo se i figli dei nostri colleghi di maggioranza vadano tutti all'interno di scuole frequentino tutti scuole private oppure se forse non hanno ben capito che cosa stavamo chiedendo loro e in entrambi i casi direi la cosa è grave perché se non hanno capito io mi chiedo che cosa ci stanno qua a fare la risposta non serve se mandano i figli se tutti fanno frequentare i figli alle scuole private io mi chiedo che cosa ci state qua a fare come potete disciplinare e regolare dei servizi pubblici quando non li conoscete abbiamo fatto un ordine del giorno ovviamente su questo non temete ne abbiamo fatti altri per per chiedere di applicare quanto consente una norma che prevede la possibilità per Roma Capitale in quanto Capitale di stipulare degli accordi direttamente col MEF per prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno dei determinati capitoli di spesa sembra che per quest'anno siano stati esclusi oltre a interventi in conto capitale come per tutti gli altri comuni anche interventi relativi a investimenti sulle linee metropolitane utile gli investimenti sono utili e le spese correnti noi abbiamo depositato degli ordini del giorno che spero poi verranno accolti che chiedono a codesta amministrazione di sollecitare il governo a escludere dal patto di stabilità interno e quindi a liberare soldi per quelle che sono le spese correnti nei servizi sociali che non hanno soldi per la scuola che non ha soldi per i lavori pubblici relativi a interventi sull'edilizia scolastica che non ha soldi per la cultura Roma potrebbe vivere di cultura del suo patrimonio culturale che non ha soldi chissà chissà come si comporterà l'aula questo lo vedremo nei prossimi giorni poi va bene non parlo delle aree verdi perché lo sviluppo e la tutela del gioco dei bambini se guardiamo le aree verdi del comune di Roma c'è da piangere c'è da piangere perché moltissime sono sporche lama non pulisce la risposta è noi dobbiamo intervenire sulle strade non è che possiamo intervenire nei parchi nelle aree verdi bene chi lo deve fare? ditecelo per adesso i cittadini si organizzano e puliscono vanno puliscono per carità perché l'amministrazione è assente questa è la verità i giochi spesso sono rotti sono sporchi sono degradati perché dobbiamo mandare i nostri figli a giocare in aree che non sono consone neanche a delle bestie perché così si crea una generazione di bambini abituati veramente alla tristezza al brutto alla difficoltà ma perché perché da un'amministrazione che voleva cambiare tutto e che ha detto Roma diventerà una città a misura di bambino ma perché dobbiamo accettare tutto questo io non l'ho capito vorrei una risposta ma so che non arriverà a Roma Capitale comma 11 conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità tutela il rispetto per la differenza e l'accettazione come parte della diversità umana e dell'umanità stessa e quindi Roma Capitale tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo il rispetto della loro dignità l'autonomia individuale compresa la libertà di compiere le proprie scelte l'indipendenza non discriminazione piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società è recente qualora vi fosse sfuggita un'ordinanza del Tribunale di Roma che condanna ATAC e il Comune di Roma perché un disabile è rimasto intrappolato nelle metro perché non funzionavano gli impianti in montascale gli ascensori non è la prima ordinanza ce ne sono tantissime quindi esattamente com'è che Roma tutela l'autonomia dei disabili perché io non l'ho capito come mai per esempio a Roma non si provvede a fare le multe a tappeto a tappeto a tutte le macchine che ostruiscono il passaggio sugli scivoli dei marciapiedi perché questo è una cosa proprio di una gravità assurda come mai molte delle vetture del trasporto pubblico non sono dotate di pedana per far salire i disabili come mai molte delle metro non hanno gli impianti di discesa e di risalita e come mai quelle che li hanno non li manutengono perché non c'è personale scusa quanti dipendenti ha l'ATAC 11.000 non c'è personale 11.000 dipendenti beh direi che è una scusa irricevibile come ha detto il giudice irricevibile oltre a una gravissima presa in giro e offesa a tutti i romani questo è un bilancio che continua a non tener conto di quelle che sono le esigenze e i bisogni dei cittadini romani è un bilancio che aumenta le tariffe è un bilancio che serve per ripianare determinati debiti è un bilancio che taglia continua a tagliare abbiamo informazioni varie per esempio nei nidi in quest'anno scolastico sono state presentate 20.000 domande ovviamente non tutte sono state accolte ma alcune non erano valide perché evidentemente formulate male diciamo che 4 bambini su 10 rimangono in lista d'attesa e io direi che è tanto io direi che è tanto soprattutto se poi non è che questi bambini vengono in qualche modo riassorbiti con altri servizi si tagliano per esempio dal 2015 tagliano i servizi baby e i micronidi che ci facciamo con questi bambini ce li teniamo a casa e quindi chiediamo alle famiglie di rinunciare per esempio alle famiglie dove i genitori lavorano entrambi che chiediamo di rinunciare per esempio al full time scegliendo il part time si può fare è una scelta personale ma si può fare certo con le tariffe che aumentano dappertutto chiedere a una famiglia di rinunciare a una quota di retribuzione beh insomma ce ne vuole di fegato però ce l'avete meno male che siete un'amministrazione di sinistra oppure gli chiediamo proprio a uno dei due di rimanere a casa perché evidentemente insomma se il bambino non può essere affidato a nessuna struttura ma è una politica è una politica sicuramente di incentivo alla maternità alla famiglia ai figli sicuramente sì non si sa per chi però i municipi lanciano grida di allarme tutti i giorni ho un piccolo prospetto di alcuni municipi vediamo un po' se lo trovo ve lo leggo allora nel municipio terzo ah nel municipio terzo questo ve lo dico dopo perché apriamo un altro capitolo parliamo delle scuole nel municipio ottavo la scuola materna Leonardo da Vinci è in completo abbandono sono anni che deve essere ristrutturata ma non ci sono fondi il nido armonia è pronto all'uso ma è chiuso da anni e si sta degradando nel municipio 14 molti edifici sono da ristrutturare anche qui il nido Alfonso Gallo chiuso nel 2008 spesi i soldi per i lavori è mai più riaperto questo significa che per la riapertura bisognerà rispendere tutto quello che si è speso sino a quel momento perché nel frattempo le strutture diventano fatiscenti perché nel frattempo questi luoghi abbandonati diventano luoghi di preda praticamente di persone che sono in cerca di tavoli sedie cose poi vengono imbrattati quindi bisogna spendere il doppio per riaprirli pensiamo un po' i nidi ci sono vengono costruiti ma poi si abbandonano i nidi le scuole non ci sono i fondi per le scuole l'abbiamo detto in alcuni municipi e qui riprendiamo il discorso del municipio terzo si è verificato poco tempo fa uno sgombero nel parco della zona nel parco delle valli e 39 persone hanno stazionato sotto al municipio di piazza Sempione si sgombera si sgombera si riprendono le politiche alemanniane degli sgomberi benché si era detto che si sarebbe operato diversamente ricordo che il campo della Cesarina è stato sgomberato si il campo della Cesarina è stato sgomberato e gli abitanti sono stati trasferiti coattivamente che vuol dire con la forza a Via Visso un centro definito Best House Rom Best House Rom è un capannone industriale in cui ci sono diciamo il rapporto tra superficie totale e numero di persone presenti è inferiore a quello previsto dalle leggi in tema di segregazione dei prigionieri mi sono spiegata non so se forse non mi sono spiegata i prigionieri i carcerati non in Italia ovviamente perché abbiamo anche le carceri in sovrannumero ma per legge devono avere più metri quadrati a persona di quanti il comune ne ha previsti nella Best House Rom e si chiama Best House Rom wow non ci sono finestre non ci sono pareti è un capannone industriale non è adatto alla vita delle persone e il comune spende a persona circa a famiglia circa 3000 euro al mese per le famiglie invece italiane il comune spende 2500 euro al mese circa per i residents quindi fatemi capire per i Rom che peraltro alcuni di loro sono anche italiani spendiamo 3000 euro al mese per tenerli in un capannone industriale dove neanche gli animali potrebbero stare per i cittadini italiani senza distinzione di etnia spendiamo 2500 euro al mese per i residents e già qui un'altra incongruenza ci sono state emozioni approvate nei singoli municipi per procedere alla progressiva chiusura dei campi Rom progressiva chiusura non significa sgombero delle persone significa superamento di questa situazione e inclusione delle persone all'interno di progetti di inclusione sociale assessore cutini assente che bello che assente che cosa sta facendo per i Rom niente mi rispondo da sola concluderò sulla vicenda farmacap un'altra vergogna proprio di questa amministrazione vicenda farmacap siamo sì è stato detto da tutti quindi mi permetto di ripeterlo anch'io siamo probabilmente l'unico soggetto che riesce a perdere con le farmacie abbiamo 44 farmacie comunali che producono hanno un valore della produzione preventivo 2014 di 42.625 euro e spicci ricavi da vendite e prestazioni costi della produzione sono analoghi ottimo però il costo secco netto delle materie prime sussidiarie di consumo si aggira intorno ai 29.000 euro il costo dei salari e degli stipendi è di 12.000 euro quindi noi abbiamo sostanzialmente delle farmacie che volendo produrrebbero anche utile e tuttavia la farmacap fa assistenza teleassistenza e telemonitoraggio quindi offre dei servizi integralmente a debito che prosciugano tutto l'utile delle farmacie ora questo è ammissibile in due casi A se i servizi funzionano B se comunque l'azienda farmaca riesce a ottenere un pareggio di bilancio anche a zero va bene ma che addirittura ci perda francamente mi sembra grave e mi sembra ancora più grave allora quando esaminando i documenti i documenti dell'azienda riscontriamo che da anni i servizi di teleassistenza e telemonitoraggio non funzionano non funzionano perché gli apparecchi non vengono sostituiti e non vengono manutenuti perché la ditta stessa che li ha forniti nel 2004 dice sono vecchi obsoleti è inutile che io mi metta a riparare questi strumenti converrebbe comprarne nuovi quindi sostanzialmente i nostri anziani che sono dotati di braccialetto per la teleassistenza i quali anziani ricordiamo stanno diminuendo dai 2800 del mi pare 2008 sono diminuiti sia per cause naturali sia perché alcuni abbandonano il servizio mi avvio a conclusione quindi questi anziani di fatto per questi anziani noi spendiamo circa 12 milioni di euro per fornire un servizio che neanche gli viene erogato perché i braccialetti non funzionano ma non è una vergogna ma quanto ci dovete mettere per capire di dover ristrutturare tutto e poi è essenziale che l'azienda farmacap abbia un nido aziendale io sono la prima sostenitrice dei nidi aziendali non vi è dubbio e però debbono quantomeno non gravare sulle casse dell'azienda o comunque il costo deve essere sostenibile qui noi abbiamo un'azienda che produce utili ma gli utili vengono drenati oltre misura da servizi integralmente a debito che neanche funzionano ma questo è un paradosso e che cosa e qual è la soluzione della giunta una delle soluzioni proposte è stata vendere le farmacie giusto vendiamo la good company cioè quella che fa utile e teniamoci perdonatemi ma per schematizzare teniamoci la bad company quella che non fa teleassistenza e telemonitoraggio perché i braccialetti sono rotti mi sembra proprio una politica geniale con una lungimiranza che fa spavento diciamo che il vostro orizzonte di lungimiranza secondo me non supera i 4 anni voi tra le svendite degli immobili e queste altre operazioni puntate a fare cassa puntate a fare cassa nel breve periodo affinché tra qualche anno quando ci saranno le rielezioni le elezioni potrete andare dai cittadini a dire noi abbiamo fatto bene certo che se si vendono i gioielli di famiglia per pagare i debiti una volta che i debiti sono ripianati e la città continua a costare che cos'altro ci dobbiamo vendere non c'è più nulla quindi per noi questo bilancio è un disastro totale ma totale non si salva praticamente nulla e mi dispiace molto perché avete avuto un anno di tempo per fare le cose per bene noi ci auguravamo un previsionale a dicembre arrivato a luglio abbiamo francamente sperato sperato di poter leggere qualcosa che desse sollievo ai cittadini così non è così non è ed è anzi l'esempio nitido di una politica che continua a essere miope che continua a operare in continuità con le amministrazioni precedenti con questo modo di fare politica per non per i cittadini per altri interessi noi questo bilancio non lo approviamo noi questo bilancio così non lo approviamo i cittadini romani si meritano molto di più molto di meglio di quello che state offrendo mi dispiace grazie 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 a tutti